Un'accusa di blasfemia che rischia di costargli la carriera. Il governatore di Jakarta, di etnia minoritaria d'origine cinese, unico governatore cristiano nel più popoloso paese musulmano del mondo, andrà a processo per la risposta data in un'accusa basata sul versetto del Corano. Dopo quasi due settimane di inchiesta, il capo della polizia dipartimentale ha confermato la decisione, presa a maggioranza, di inviarlo davanti al giudice, con tutte le implicazioni conseguenti a partire dal divieto di viaggiare all'estero. Basuki Tiahaya Purnama, popolarmente conosciuto con il nomignolo di Ahok, fu eletto governatore nel 2014, quando il governatore uscente e suo alleato, Yoko Vidodo, lasciò l'incarico per divenire presidente. Questo paese è governato dalla legge e quindi decideranno i giudici. Se ora divengo ufficialmente un sospetto, seguirò le procedure legali, che io sia innocente o no, le seguirò. Ma sono convinto di essere innocente e non avevo intenzione di offendere, ha commentato il governatore. Il 4 novembre il fronte dei difensori dell'Islam organizzò una manifestazione terminata in scontri con la polizia, chiedendo le dimissioni del governatore per aver detto che i suoi rivali politici, usando un versetto del Corano per attaccarlo, avevano deluso gli elettori. Ahok è in testa i sondaggi per un secondo mandato, ma il processo ora compromette seriamente la corsa al seggio. Grazie. 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 Grazie.